Forse ho sbagliato a darti troppe cose, ma un uomo innamorato non ha ragionato. Io sto collato ai letti di limoce, ho merdo di ogni persona. Ti ho amato come donna e come figlia, avrei essere evitato la mia vita, ma ora che si scioglie la famiglia, mi chiedo perché mai ti ho conosciuto. Abbiamo un tramonto particolare oggi, oltre alla colonna sonora, perché c'è uno strato di nuvole e poi il sole passando sotto arriva addirittura a toccare l'orizzonte con il miraggio. Quindi vediamo un doppio tramonto, il primo sopra un tetto di nubi. E il secondo, vero, sopra l'orizzonte del mare, a questo punto direi del tutto inatteso. Ecco il primo tramonto è andato sopra il tetto di nubi. Una musica gradevole, un testo un po' da censurare. Ostentatamente romanesco. Ecco qui una bella barca che passa sullo sfondo del sole. L'ISO è automatico, perché altrimenti non si sarebbe visto il sole. La mia vita, questa vita è stata buona in una mano. Ogni tanto dei passati ad abbagliarmi sulla schiena. Ecco nelle fasi finali vedremo anche il termine del tramonto. E' stato sollevato, leggermente sollevato dall'orizzonte. E così succede dopo che c'è un miraggio al primo contatto. L'ISO è un viore che dovrà due ore. Questo è il miglior tempo per perdere. Tutto là, è un valore. 24.03, il tramonto. 19.24.03